Avvocato Livi, quali sono oggi le esigenze dei clienti che operano nel settore TMT? Innanzitutto devo dire che è un momento estremamente sfidante per tutti e in particolare per chi opera nel settore TMT. L'esigenza è quella di stare al passo dei tempi con riferimento alle tecnologie, ma soprattutto con riferimento ai dati. Questo è il momento del big data, il momento in quale si cerca anche di massimizzare l'uso di dati da poter sfruttare anche in un'ottica futura. Questo è il momento dell'internet delle cose, è il momento della digitalizzazione dell'impresa. Le sfide sono tante e il momento è obiettivamente particolarmente sfidante, non solo per le aziende ma anche per chi assiste alle aziende. Perché non solo deve pensare al diritto, ai temi giuridici legati ad esempio con riferimento ai dati, ma anche alle opportunità di business. Bisogna lavorare sul presente pensando anche al futuro. Grazie Avvocato.